Siamo arrivati a tutti i pali di palco a fare insieme un appuntone. Ci sono un appuntamento di come è che è un appuntamento. Quindi, sono l'unità di tutti voi a salire sul palco. Ecco! Vi appiccino. Vi ringraziamo tutti. Vi ringraziamo il vicepresidente. Vi ringraziamo il padre Alessandro Monti e il padre Daniele Mussone. Vi ringraziamo davvero per la fiducia. Non si fanno mai mancare per noi. Non lo so! No! Non si fanno mai. Non lo so! No! Ma cosa si è che è un preda? No, non si fanno mai! No, mi ringraziamo. No! Grazie, sono много persone, grazie perché sono visibili tra virgolette ma che stanno veramente tanto bene il gruppo. Be' grazie davvero, no, grazie a tutti. Grazie. 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 Con questa canzone vi auguriamo ancora buona domenica a tutti. Grazie. 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 Amore, come quando dici perché no, ne dici il cuore, tua voce, come quando metti il rosso, come quando dici perché no. Amore, come quando dici perché no, ne dici il cuore, tua voce, come quando metti il rosso, come quando dici perché no. Grazie. Grazie.